Finalmente hanno raggiunto la cima, ma Rados è qui che li stava aspettando. Una dura battaglia li aspetta. Ok, sei il primo ad agire. Ottimo. Ok. Capra, lupi, lupi. Secondo me la capra è... Le cose sono due. La capra o è qualcuno che hanno tramutato in capra, oppure è tipo il boss che per evitare, per disorientarci, si è trasformato in capra. Sarebbe un'ottima strategia per un boss. Prima o per la userò in una campagna. Comunque sì, io provo ad attaccare... Posso colpire un di 6 più 8 danni aggiuntivi. Ok, colpisci. Direi. Sono 32 danni. Allora, dov'è dichiaro a Lili? Sarai intenzionato di andare sulla capra. No, ma ci mando la tigre sulla capra. Sono il morso. Ok, io lo faccio solo. Questo qua. Ah, Master, come azione di movimento faccio un... Faccio un channel... Come si chiamava? Channel. Quando carico l'energia... In canalare. Al prossimo... Per dimitire gli unimi... Per raccogliere le... Gitter Power. Comunque mi devi fare un tiro di salvezza su Tempra. Sì. Io? Ah. Ok. Ok, passi il tiro. Tocca a Dada. Che pure si scaglia su un lupo. Poi, tocca a lui. Voi lo vedete dopo il colpo di Thorin, tutto pieno di terra e sangue. Lo vedete correre, sfondare la porta e lo vedete sparire. Che cosa volete fare voi? Vabbè, ormai quello lì è scomparso. Dice. A te, Turian. Ora chi è che tocca? Ok. Quindi vabbè, sempre verso i lupi. Colpisco il primo con una martellata. Vediamo se viene bene almeno. Ok. Sì, anche questo lupo esplode. Ok, ora uso il calzare che ci sono. Almeno la faccio da presso di uno. Vale la pena. A posto. Ok. Saltano fuori tutti. Quanto è bello di essere veloci con il calzare. Adesso tocca la capra. e casta su tutti nell'area. Dovete tirarmi un... No, Dio. Quanto è il laurea che amani tu, Turion? Laura di coraggio. Per immunità alla paura. Laura. Ok, quindi dov'è stare duri. Sontanto Ada. Ok, quindi chi non rientra nel raggio deve farmi un tiro di salvezze su Tempra. Vabbè. Qua dice che vabbè, di tirare sia come si chiama. Adesso ti riporo più 4. Quindi pure a posto. Se devo stare più di sensibili, prima li devono colpire. Madonna, che tiri. Ok, tutti passano. Quindi vuoi essere cominciato il giro? Turion, cosa fai? Io... Eh... Il fatto è che... Non so dove... Cioè, non so dove è lui, non da dove... O se potrebbe risbucare. E... Provo... Ah, che ha stato... Incutre paura. Provede, passano il tiro. Mentre invece... Tizio... Dove sei... Se n'ha nato. Boh, veniamo la capra? È una domanda o un'affermazione? Un'affermazione? È un'azione. Un'azione. Tiriamo... Un'azione. Tiriamo un bel blast... Bello potente su questa capra. Beh... Dai, capretta... DJ Volvo... È la capra. DJ Volvo... Adesso che fai... Due attacchi entrambi di 32 danni. Punto è... Boh, poi io andrei verso... Qui... Che c'è... Un'altra cosa... Ok. Vabbè, intanto mi ci avvicino. Allora, anche qui vedi che questa è la sua stanza. C'è anche qui uno di quegli specchi di ghiaccio che avete utilizzato per teletrasportarvi. Ok. Proprio per dire. Però posso notare che qui c'è qualcosa. Ah, sì. Qua sotto si può scendere. E poi vedete una statua qui. Questa qui. Che... Che... Prenta rappresenta... La... La vecchia... Post... Post... Porca miseria. La... Comunque la fondatrice di questa... Di questa torre. Che ha creato questa torre. Ed è... Prenta un... Un identikit per scoprire chi è Nazena. Quindi prendete una statua di ghiaccio dedicata all'azienda. Che dovete fare? Mmm... Madonna che spazza. C'è un... Portale. Una striglia. Dopo aver... Dopo aver trovato tutte le... Tutte le parole d'ordine che conosci. Non funziona. Non succede nulla. Ok. È una semplice strada di ghiaccio. Ah no. Non funziona. Non funziona il suo nome come parole d'ordine. Ci prova. Ci vedo. Ci avranno approvato intelligentemente. Ma cerchiamo la stampa. Magari c'è qualche... Indizio. Tipo la cesta che andiamo davanti. Questa è quella. In generale. In questa. In quella prima. Mmm... Sto guardando. Allora è qui. Dove sta Lily? Mi stai chiedendo? In generale. Cioè cerchiamo. Come entrambe le stanze. Per vedere se ci sono delle... Indizie. Su quale potrebbe essere la... Ma che sta chiedendo? Ma che sta chiedendo? Ma che sta chiedendo? Allora. Né qui. Né qui. Ci sono indizi utili per scoprire la chiave. Ma che... Vabbè. Eh? Tornate indietro quindi alla Q13. L'abbiamo migliorato. Dicevo. Anche in Q15. Q15 è il portale che porta dai corvi. Eh sì. Questo rosso è quello che ci portava qua. Allora. Aspetta. Quale? Questo qui. Quello all'ET portava lì. L'It portava lì. L'It portava lì. L'It portava lì. L'It portava lì. Alla Q5. Tornate qui alla Q13. Quindi poi andate dove? Tornate alla Q8. Giusto per te trasportavi indietro? Ok. Dalla Q8. Da questa qua arrivate qui. E vedete che tutte le porte. Queste qui. Che prima erano chiuse. Sono state tutte aperte. Noto anche delle persone fuori. E nell'area antistante. Quindi nel cortile. Vedete una bellissima sorpresa. Vedete tutte le guardie della torre. Insieme c'è quella che prima era una statua di ghiaccio. Rappresentante un drago. Adesso è un drago animato. E il radosec. Bello e pulito. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.